Buon pomeriggio a tutti, benvenuti su investire.biz e ben ritrovati all'aggiornamento di trading con Ichimoku più Price Action, aggiornamento che andiamo a fare ogni martedì dopo la sessione del giovedì precedente di trading con Ichimoku più Price Action, dove come sempre andiamo ad analizzare gli strumenti più interessanti ma a impostare anche degli ordini pendenti e quindi vediamo oggi quali sono gli aggiornamenti, prima però di andare sui grafici andiamo sul sito per andare subito nella sezione appuntamenti, ricordo che anche questa settimana ci sarà la sessione di Ichimoku più Price Action giovedì 9 settembre, come sempre alle ore 16 e potete già iscrivervi. Però un'altra cosa interessante, se andate nella sezione dei servizi e andate a cliccare qui sessione di trading con Ichimoku più Price Action, come sempre ho trovato una sessione intera di esempio, tra l'altro che ho aggiornato di recente. Bene, ora possiamo andare direttamente sulla piattaforma del broker Kimura Trading, eccoci qui, andiamo subito a parlare di GBPUSD, quindi sterlina contro dollaro americano. Che sta succedendo qui? Possiamo entrare di basso? Allora, la cosa interessante è che è stato segnato un doppio minimo molto importante, proprio qui in area 1,36 e 25, 1,36. Da qui i prezzi sono saliti con forza, hanno segnato questo impulso che adesso vi vado ad evidenziare, l'impulso che parte dal 20 di agosto e si conclude il giorno 3 di settembre. Da qui è iniziato un ritracciamento, quindi siamo proprio in questo momento nella fase di ritracciamento in area 1,37 e 84. Come comportarsi in questa situazione? Allora, si può operare in due diverse maniere. Modalità un po' più aggressiva, long a mercato, in quanto siamo sulla Kumo, sulla linea Tenka e sulla linea Kishun. Inoltre, se andiamo a vedere bene, andiamo ad evidenziarlo anche, siamo su questa zona che in precedenza funzionava da resistenza ed ora quindi potrebbe fungere da supporto. Altro motivo interessante per entrare long a mercato è che abbiamo il minimo di questa candela, eccola qui, ad alta volatilità, sto parlando della candela delle 2 di settembre. Guardate, questa è una candela ad alta volatilità che apre sui minimi e chiude sui massimi. Questo non fa altro che confermare la forza rialzista che abbiamo appena aumentato in precedenza, il trend partito da 1,36 e 40. Quindi l'operatività potrebbe essere questa, long a mercato con stop loss esattamente alla chiusura della candela giornaliera al di sotto di questo livello 1,37 e 67. A livello poi di gestione della posizione, target price, obiettivi di breve termine, obiettivi di medio termine, io non posso fra l'altro che invitarvi all'interno del gruppo Traders Club, ma soprattutto, a mio avviso, l'evento più importante è la sessione di giovedì delle ore 16. Bene, quindi questa potrebbe essere una delle prime opportunità. Voglio un attimo attendere la chiusura giornaliera prima di aprire nuove posizioni. Andiamo a vedere Euro-Dollaro, anche qui situazione molto simile, dai minimi abbiamo assistito a un forte impulso rialzista su Euro-Dollaro, questo perché il dollaro si è un po' indebolito nelle ultime settimane. Detto ciò, Euro-Dollaro è arrivato 1,19, lo abbiamo visto anche questa mattina, però secondo me comprare ora è troppo presto, infatti lo stiamo attendendo, lo ripeto anche questo pomeriggio, in area 1,18, 1,18 e 20. più in alto c'è già un supporto a 1,18 e 35, però secondo me è un po' troppo presto per comprare. Anzi, possiamo addirittura valutare uno short, anzi noi lo abbiamo già fatto dalla zona degli 1,18 e 55 all'incirca, possiamo valutare uno short per prendere anche tutto il ribasso, l'eventuale ribasso che ci sarà fino a 1,18. Il target finale l'ho messo in area 1,17 e 60 in realtà, però questo è un altro motivo che poi insomma spiegherò alla sessione di trading con i Cimoku, perché poi l'importante è gestire al meglio la posizione. Andiamo avanti perché abbiamo un'altra opportunità interessante anche su ODNZD, l'abbiamo visto anche questa mattina, voglio però andare ad aggiungere l'indicatore di Cimoku perché come potete vedere la linea Kishun ha funzionato da resistenza, comunque i prezzi si sono avvicinati molto, la candela di oggi a mio avviso sarà interessante perché sarà una candela ad altissima ma abbastanza ad alta volatilità in quanto abbiamo un'escursione da massimo a minimo di 75 punti e attenzione, 75 punti su un cross come quello di ODNZD non è poco perché dovreste andare a costudiare la volatilità media, insomma capireste che su ODNZD 75 punti di escursione una giornata sono abbastanza rispetto alla media, mentre su GBP USD per esempio potrebbero essere pochi. Detto ciò però, l'operatività, beh io valuterei, anzi noi siamo già in posizione short in realtà, in ogni caso quello che dovessimo assistere a nuovi rialzi andrei a, insomma a un nuovo rialzo, andrei a shortare nuovamente in area 1.044, con uno stop tutto sommato anche abbastanza stretto perché alla chiusura dei prezzi, alla chiusura della candela giornale era al di sopra della linea Kijun, andrei a chiudere la posizione definitivamente. Queste sono delle linee guida, attenzione non è proprio così automatico, bisogna anche un attimo capire come è stata rotta la linea Kijun al rialzo, se sono stati rotti alcuni livelli molto importanti, in che modo sono stati rotti, però insomma le linee guida sono queste più o meno. Andiamo però a vedere anche Bitcoin che, wow, proprio in questo momento sta scendendo con forza, molta forza. Infatti siamo ritornati in area 46.530, attenzione perché ci stiamo avvicinando a dei livelli molto interessanti a mio avviso, infatti già da qui si potrebbe valutare una long, anche se a vedere una candela del genere giornaliera insomma non è il massimo, però altissima volatilità come potete vedere, attenzione, sia a livello dove siamo adesso, ma soprattutto, eccolo qui, il livello di 45.000 dollari potrebbe essere un ottimo punto di acquisto, quindi attenzione alla zona dei 45.000. Bene ragazzi, direi che per oggi abbiamo visto tutto, abbiamo tantissimi altri strumenti da commentare sia all'interno del gruppo Traders Club, ma soprattutto alla sessione di Ichimoku di giovedì, quindi io vi aspetto, buona giornata e buon trading a tutti.